Ciao a tutti ragazzi, io sono Razor e benvenuti in questo nuovissimo video Allora, prima di tutto vorrei scusarmi per questo piccolissimo periodo di inattività su questo canale Dato che non ho più caricato video, però non sono motivi miei, bensì mi si è rotto il microfono Sì esatto, circa una settimana fa stavo provando a registrare un video e mi sono accorto che appunto il microfono non ha catturato la mia voce Pensavo fosse un problema del microfono, tipo che fosse mutato, ma alla fine si è rivelato che si è rotto così da nulla Quindi questa settimana che non ho caricato appunto video ho aspettato il microfono nuovo, scusatemi E finalmente mi è arrivato e il microfono di cui sto parlando è il Samsung Meteor Che troverete su Amazon a circa 60€ esatto Comunque ragazzi, non è questo l'argomento di questo video Ma l'argomento di questo video è un contest Sì esatto, avete capito bene In questo video voglio proporvi il mio primissimo contest su questo canale Per ringraziarvi dei 1000 iscritti anche se siamo già quasi a 1400, ma fa niente Comunque ragazzi, cosa vincerete in questo contest? Beh, la risposta è semplice In pratica si vince un account di Minecraft Premium Esatto, avete capito bene E però per partecipare dovete seguire 4 punti fondamentali Il primo è iscriversi a questo canale Poi dovete mettere mi piace a questo video E commentare il video stesso con hashtag partecipo Infine dovete andare a mettere mi piace sulla mia pagina Facebook Che troverete in descrizione Dopo aver fatto questi 4 punti fondamentali Potrete appunto partecipare al contest E ripeto, il premio è un account di Minecraft Premium Che dire ragazzi, il contest non so ancora quanto durerà Ma penso dalle 3 settimane a un mesetto Comunque comunicherò la data di fine La data di chiusura, tra virgolette, del contest in qualche video E penso che l'estrazione avverrà tipo Cioè si avverrà tipo in una live Perché sinceramente non ho voglia di sprecare 10 secondi della mia vita A fare un video, giusto così, per caricare un video a random E niente ragazzi, che dire Penso di aver detto tutto Spero che partecipiate in tanti Quindi GG E niente, da Razor è tutto Bye bye Bye